ok vediamo il registro si sta camionando a registrazione buonasera raga buona cena io finì di mangiare ho guardato la televisione e ora andiamo a lavare i denti e ho detto facci il video e dopo lavo i denti io oggi quando mi sono svegliato mi sono andato a fare la barba prima e dopo mangiai così si deve fare e mi sperdìa quando ho fatto la barba e faccio le storie su youtube così vedete come si fa la barba e la fate anche voi mi sperdìa a prossimo quando mi cresce la barba mi faccio a voi qua su youtube le storie e gli faccio sapere come si fa la barba oggi l'ho fatta quando mi sono svegliato e quando me lo sono fatto ho sbagliato volevo fare le storie ormai l'ho fatta non fa niente vedete nuovo nuovo io sono un uomo di casa ho 30 anni e sono di moto san johan proveniente di reggio calabria e sono il vostro idolo e ricopa scuola pratico tutti e l'accento solo e sono qui per voi mi dissocio mi scuso e perdonatemi sono italiano calabrese dialetto vi voglio dire iscrivetevi al canale bene a tutti ragazzi un like seguitemi con niente e niente qua sotto trovate tutti i link di amazon il link dei gameplay il sabato e la domenica carico i giochi dei gameplay che ce l'ho pronti per voi così io le porto i giochi dei gameplay e dopo qua trovate di lì e di qua quando toccate la freccia trovate voglio dire toccate la freccia trovate tutti i link c'è la mia lista che ci sono due c'è la mia lista che pubblico tante cose metto così voi mi mandate i pacchi di amazon a casa col postino così quando mi arrivano io le apro faccio un video così ho le storie e anche lì c'è trovate tutto qua sotto ok andiamo i miei occhi si chiudono e si aprono ok salutiamo maricola j luce del nord alla collo x assunta fabio valentina e aspetta fabio valentina ma un cd3 over dopo simone jody david rubino crescere martavello e miriana ciao bella saluto anche quelle da sera che vado in chiamata su disco e dopo vado a letto che devo fare i lavori che non è che penso quelle persone dicono che faccio sono sempre a casa io vado in giro cammino faccio i lavori loro non fanno niente non hanno niente da fare o non hanno una vita e non ne fanno dicono cazzate il bordello io vado me ne frego e vado avanti io faccio i lavori aiuto la mia famiglia avuto volete venire a lavorare con me vedete come pulizzo qua lavaterra faccio tutti i giorni pulizzi entra a casa un giardino dove zappavigna e volete venire caccia erba porto zappone c'è ma erba zappamaterra quando ora piantano potate ci pute pomodoro e altre cose so parlare ho detto cose giuste e spaglio mi correggo io so parlare sono grande c'ho 30 anni ma vabbè ancora devo prendere la patente ancora faccio il tempo la fidanzata me la devo cercare che io voglio stare con una ragazza sta con me ancora sono single che mi vuole o vada la cerco io che sono grande e niente e sono qua avete visto raga oggi la partita oggi quando scuravo io mi sono visto la partita roma e juventus 1 a 1 pari ha fatto il pareggio noi 1 a 1 roma e juventus 1 a 1 pareggio pari andiamo a prossima la roma gioca con un'altra squadra la juventus gioca con un'altra squadra che oggi ho visto la partita che era roma con juventus giocavo oggi la partita roma e juventus pari 1 a 1 e finito a partita erano a 1 a 1 pareggio e io tifo la juve la regina e italia queste tre squadre ok andiamo a vedere che dice il mio robo eco che ora è e quanti gradi ci sono così dopo basta andiamo a farlo un poco lungo questo video mi dissocio vedete che bello che ho fatto la barba oggi quando mi sono svegliato ho detto faccia la barba e mi svegliere faccio le storie così mostro come si fa la barba alle persone su youtube che i miei fan e le persone sono il loro idolo vogliono vedere video nuovi e io le sto portando i contenuti nuovi non porto le stesse cose andiamo va ok ecco che ora è sono le 9 e 58 di sera buona notte avete sentito che ora è ecco quanti gradi ci sono a motta san giovanni in questo momento a motta san giovanni italia la temperatura è di 26 gradi celsius per stasera la minima prevista è di 23 gradi ok john zina io io me ne zini andiamo e niente e sentite parlare la televisione che ancora è aperto ora chiudono che ora i movimi lavami i denti che è tardi saluto tutti quelle che commentano quando faccio le dirette ciabelli vabbè questa non è una diretta è un video vabbè quando faccio la diretta su youtube e altre parti io le saluto lo stesso saluto solo le persone che mi vogliono bene che mi stimano e non quelle cattivi quelle che scrivono cazzate parolacei bestemmi io quelle la non le non le leggo non le saluto le blocco solo le persone cattive le blocco le persone cattive su la indiretta quando faccio la diretta parlo solo con le persone che sono gentile bravi e e mi salutano e mi dicono che fai mi saluti saluta la mia famiglia fidanzato compagno di scuola io queste le saluto quell'altro no che non hanno niente da fare si devono vergognare è così raga la vita è così loro non vanno avanti guardano sempre si vengono voglio dire si devono vergognare non hanno niente di vita mi dissocio io youtube persone mi dissocio anche su youtube mi dissocio youtube va va bene basta andiamo che devo cambiare devo dire tante cose e facciamo un po di smr poi parlante andiamo me lo prende vengo sono qua non è che vado via quando metto pausa vado in giro dei stanzi e registro non è che metto pausa ne parlo qualcuno no non pensate questo o vi faccio un culo così a di bravi dai o vi butto caga catapulto fuori ok non mi rompe di catanazzi vabbè vabbè andiamo a che devo mangiare anche un cornetto a pistacchio andiamo a ok eccoci qua il coso cornetto a pistacchio andiamo a primo il volume e remis vabbè il bluetooth device is ready to help prova si si 1 2 3 4 prova prova si si 1 2 3 4 5 prova prova 1 2 3 prova ok funziona raga ciao ragazzi a tutti che fate sono qua con i perlanti sex e niente dai forza reggino forza Italia forza io Ems dai andiamo mi dissocio io non ho pensato niente di male youtube mi dissocio anche le persone mi dissocio raga non pensate male che io faccio quello voglio voglio o faccio il karaoke che canto il karaoke con la base del testo o vado io canto lo stesso e sono tonato voglio cantare lo stesso e a voi che piace a voi non mi piace guardate quei altri canali le persone o i miei fan stanno qua con me non è che fanno quell'altro che quell'altro sono cattivi sono solo quelle la conoscete che scrivono a tanti youtuber che sono ci sono persone che sono persone che sono bravi ci sono quelle cattivi che non vogliono si chiamano in quella maniera che sapete voi non dico il nome io non le penso penso la mia vita vado avanti io sono grande a me face voglio dire a me mi piace questo lavoro sono famoso sono uno youtuber e vado avanti che lo chiudo ora il video lo devo fare un pochino lungo il video ti saluto con questo che lo devo posare ok ok vabbè cantiamo una canzone così a mozzo con le mie frasi da bocca quando è ora il pomeriggio quando faccio il karaoke con la base del testo vi faccio quello con il karaoke con la base del testo ora questo lo faccio così racconto tante cose canta muzzo con le mie frasi e la vita siamo qui la sera la voglia di baciarvi tutti e oggi ha fatto la partita la roma la juve hanno pareggiato uno a uno e niente pareggio hanno fatto la roma e la juve una a uno forza juve forza regina forza italia andiamo avanti io mi dissocio siamo i campioni del mondo io sono qui amore viviamo tutti sette la mia vita è la forza che è la vita che è la cosa che è la vita che è buonasera è la voglia di baciarvi dei miei bencipesse io so parlare meglio di voi io non è che che è Sono qua che comando io i miei video, li faccio come voglio e sto cambiando contenuti, non le sto portando le stesse contenuti. Ci saltiamo stasera, tutti i giorni, mi voglio bene, se l'America mi dissocio, mi dissocio, ciao ragazzi, ciao bellini. Vabbè basta così, dopo loro pensano. Vabbè metto pausa un po' su questo e torno, dai, ho messo pausa, ora così cammina, metto pausa non cammina, ci vediamo tra poco, dai arrivo, bevo e torno. No! Ok raga, voglio dire una cosa, io ho detto a voi, un poco ora, ho detto a voi che vado a posare il bastone, non il bastone di selfie, il parlante, io ho messo pausa e ho visto, quando ho posato il coso, ho venuto dalla telecamera, ho guardato così, ho detto no, ho messo pausa e stava cammanando. C'era il puntino quello rosso che cammina la registrazione, vabbè, io non lo cancello il video e lo faccio da capo, vabbè, ormai lo metto lo stesso questo, che dopo io lo cancello questo e devo fare tutto da capo. Comincio da capo e dico queste che ho detto ora in questo video e dopo non me le ricordo, io mi ricordo tante cose, questo lo tengo lo stesso, lo pubblico, non fa niente, io ho toccato il bottone in lato, sono quelle due linee, ho messo pausa, quando metto pausa, così parte, ci sono quelle due linee, le tocche, c'è il cerchio bianco con il puntino rosso e pausa. E lo tocchi, ci sono due linee, cammina la registrazione, e boh, vabbè, quando arrivate a quella parte là, voglio dire, quando arrivate a quella parte là, che io pensai che ho messo pausa e cammanava metà, e sono arrivato subito e ho visto che stava cammanando. E non mi vedete quella metà da registrazione che stavo posando i parlanti, quello che cambia voce, che canta, fa ASMR, i parlanti, quello che ho mostrato a voi ora, ok? Mi dissocio io, io devo fare i video che mi mostro io, no? Che vado via e se vede vuoto la telecamera a registrazione, vabbè, quella metà non fa niente, va? Io lo pubblico lo stesso, questo qua, a me, così lo condividono le persone, i miei fan, così, gli piacciono i contenuti così, a loro gli piacciono che vado in giro, a mare, ucona, io vado, a me mi piace andare in giro, Non è che sto intra, a pensare quelle cattive o quelle persone che ancora sono piccole, io sono grande, non dico le stesse cose, io sto cambiando, se volete venire a fare i video con me, o la diretta, un video o qui, o babascio, quando venite qua, io non ci sono, sì, ci sono, faccio i lavori qua al pomeriggio, presto o prima o dopo, E voi venite tardi o al pomeriggio, io sono a lavoro, non so se sono qua il pomeriggio a fare i lavori in polizia e le faccio il pomeriggio, e venite presto il pomeriggio, io non ci sono, e sono un giardino a Zapparavigna, e venite a trovare a me a fare le foto e la firmo in videosaluto, voi venite lo stesso, fate attenzione, ok? Che io voglio fare le foto con voi, le foto alla firmo in videosaluto, ok? E voi venite, non arrabbiate, state tranquilli, quando c'ho tempo, quando vengo, che voi suonate della mia porta, della mia casa rosa, cioè un parlante la suonate e non vi apre nessuno che la mia famiglia o dorme o fanno i lavori là sotto, in questa casa, Io vado in un altro giardino a Zapparavigna, a cacciare erba, e così raga, e io devo fare i lavori, mi devo campare io, che io ancora sono giovane, sono uomo di casa, ho 30 anni, E vi voglio dire, iscrivetevi al canale, bene a tutti ragazzi, un like, seguitemi come ho detto, e niente, io vi saluto tra poco, che l'ho fatto troppo lungo, vabbè andiamo va Ok raga, eccoci qua, io vi voglio dire raga, sono già i 10, è tardi, devo mangiare un fornetto a pistacchio e devo andare a lavare i denti, è tardi raga, ci vediamo domani, ok? Chiudiamo così, trovate tutti i link di Amazon, il link dei gameplay, il sabato e la domenica carichi i giochi, dei gameplay, la mia lista, che tutti i siti e metto qualcosa, così mi mandate col postino, con l'altro link, e vi saluto, tutti i giorni video per voi, e niente, bella rocca, vi voglio bene, e vi saluto tutti, state tranquilli, oggi quando mi sono svegliato ho fatto la barba, e niente, saluto quelle cattive, Ciao belli, vergognatemi, fate i bravi e smettetela, chiudete la bocca, non parlate troppo, andiamo avanti, ciao belli, vi voglio bene, ciao, ora vi chiudo così, mostro il corpo, ok, vi saluto così, andiamo, ok, andiamo, ciao belli, alla prossima, l'ho fatto troppo lungo,